Il 20 febbraio 2012, l'Unimento 5 Stelle ha depositato in Regione di Germania le prime 380 firme per la proposta di una legge di iniziativa popolare, volta alla rimozione e all'eliminazione immediata dei tariffi per i consiglieri regionali e dell'indemità di fila mandato, un atto concreto per tagliare ed assumito dei costi ideopolitica. Dopo un trabagliato percorso dettato da ritardi da parte della Regione a rispondere alle nostre richieste, il 28 dicembre 2012 è iniziata in tutta la Regione la raccolta delle 5.000 firme necessarie per la presentazione della proposta di legge all'Assemblea Legislativa delle Miglia Romane. Grazie all'impegno di molti gruppi locali abbiamo raccolto migliaia di firme. Mancano pochi giorni al termine della raccolta. Per raggiungere l'obiettivo serve la volata finale. Servono i firma adenisi. L'8 e il 15 giugno in molte città della Regione della Romagna saranno a rischi dei banchetti per la raccolta di firme per la proposta di legge. Possono firmare tutti i cittadini residenti in Emilia Romagna, devono presentarsi in uniti di carta di identità o di passaporto. Per sapere in quali città sono presenti i nostri banchetti, potete consultare il sito aboliamoivitalizzi.wordpress.com Giorgio Gaber diceva, libertà è partecipazione. Basta lamentarsi, basta nervo in bianco, diventa cittadino attivo. Partecipa in firma d'Ace, ricorda e diffondi sabato 8 e sabato 15 giugno. Grazie a tutti.